Scrum, parla, mi rispondi. Sì, mi sento più le mani. Forza, Doug! Andiamo! Come va? Sono Beck. Doug Gensen. Che fai quando non scali montagne? Consegno la posta. Un postino sull'Everest? Spero di sì. Grande. Molti di voi sono esperti alpinisti. Non sareste qui altrimenti. Ma l'Everest è il posto più pericoloso della Terra. Com'è il campo? È buono. Vorrei essere con te. Scaleremo insieme la prossima volta. Tutti e tre. E tua moglie? A lei va bene tutto da quando abbiamo divorziato. Good morning, Everest! Oh, mio Dio. Arriva il boss del campo base. Mettiti seduto, ambientati. L'essere umano non è fatto per funzionare alla quota di crociera di un 747. Il nostro corpo inizia a morire. Quindi la sfida è riusciremo a portarvi in cima e poi al campo base prima che succeda. d'ora. Mettiti forte! Certo che è dura. Ancora pochi giorni e per tutta la vita sarai l'uomo che è arrivato in cima all'Everest. Rob, abbi. Rob, dove sei? In cima all'Everest, Ellen. Rob, sbrughiamoci. Arrivano delle luvole dalla valle. E sono tante. Oh, no. Ci sono dei dispersi lassù. È la tempesta peggiora. Abbiamo un problema. È finito l'ossigeno. Tu vai. No, non ti lascio qui. Andiamo. Non vai e morirà. Mi senti, Rob? Tu devi muoverti. No! Se c'è uno che può farlo, sei tu. Te amo. Tu devi muoverti.